È iniziata la seconda fase dei lavori del progetto Il Buio a Colori, che si concluderà entro il 20 maggio con la riqualificazione del sottopasso ferroviario che collega Corso Lazio a Via Puccini, realizzata dall'amministrazione Ottaviani in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Frosinone. Proprio dalla zona Scalo è stato avviato il restyling dei sottopassi cittadini presenti in città, che insieme agli altri tunnel del capoluogo saranno inclusi nel progetto unico in Italia ideato proprio dall'amministrazione. Il Buio a Colori nasce dal presupposto che le zone scarsamente illuminate presenti a ridosso della ferrovia o anche nella zona alta, come il tunnel di Viale Roma o quello di Sant'Antonio, costituiscano alcune volte elementi di criticità per la sicurezza dei cittadini, oltre a rappresentare aree di disagio urbano. Per porre rimedio a questa problematica, il sindaco Ottaviani ha ideato una innovazione architettonica strutturale che produrrà il risultato di rigenerare completamente i tratti stradali attraverso la posizione di centinaia di lamelle quadrate, colorate, con le diverse tonalità di base ed illuminate da strutture a LED interne ai viadotti, le quali cambieranno disposizione ogni sei mesi, si otterrà l'effetto di entrare periodicamente con le automobili o anche a piedi all'interno di contesti urbani completamente rigenerati, addirittura anche mutevoli. Le epoli, craunie così create costituiranno la base di un progetto brevettabile dal Comune di Frosilone e dall'Accademia di Belle Arti, replicabile anche in altri contesti urbani, con possibilità anche di introiti finanziari per i due enti ideatori e realizzatori. Per concludere i lavori, entro il termine previsto, gli uffici del settore e i lavori pubblici hanno esteso l'ordinanza di senso unico alternato con una posizione di semafori provvisori e segnaletica stradale di preavviso e sicurezza su tutto il tratto del sottopasso ferroviario tra via Pierluigi da Palestrina e via Puccini, con l'obbligo di rimuovere tutta la segnaletica installata a fine giornata lavorativa per limitare il più possibile disagi al traffico veicolare.